La diciassettesima giornata del campionato di calcio di seconda categoria vede di fronte allo Stefano Lamotta, la vigneta ed il città di Gangi. Primo tempo molto equilibrato e noioso che termina le reti bianche senza particolari emozioni, nonostante la vigneta abbia costruito molto di più rispetto agli avversari. Nel secondo tempo, rapido 1-2 della vigneta che segna il primo collo con Bracco e la seconda rete con l'esterno smantello. Sembra il colpo del lockout, la vigneta domina in campo ma il città di Gangi non si arrende e a dieci minuti dalla fine riesce ad accorciare le distanze. I giallorossi madoniti ci credono e tentano un assalto all'arma bianca contro la porta difesa dal rientrante Bevacqua ma i gialloblu di Burrafato resistono ed in contropiede rimettono in sicurezza il risultato con un gol in contropiede di Marco Scardino al 94esimo. La vigneta con questa vittoria sale a 23 punti in classifica, aggancia il settimo posto proprio gli avversari odierni anche se le cinque squadre che la precedono, Val Dolmo, Trinacria, Real Cadena Nuova, Sopranese ed i città di Gangi dovranno recuperare una partita. Il prossimo incontro la vigneta dovrà disputarlo fuori casa contro il buon Pietro che in classifica naviga al terzo e ultimo posto con 18 punti. Il prossimo incontro la vigneta dovrà fare una partita.